E' stata presentata la stagione della prosa al Teatro Maruccino di Chieti, firmata dal maestro Davide Cavuti. Otto appuntamenti con una prima nazionale, l'evento speciale Il Cinema incontra il teatro, un'edizione definita Stellare. Stellare per quanto attiene alla partecipazione di grandissime stelle del teatro e del cinema, c'è un grande ritorno Umberto Orsini, ma poi Rocco Papaleo, Violante Placido, Marina Confalone, Mariangela D'Abraccio, Carlo Bucci Rosso, ce ne sono tantissimi di grandi artisti. C'è una prima nazionale con Cristina Comincini che debutterà qui con I Turni, con Francesca Enaudi e Nancy Brilli. La nostra volontà è quella di coniugare i grandi testi letterali degli autori che amo definire senza tempo con le nuove scritture e quindi degli autori contemporanei per cercare di avvicinare sempre più i giovani che già tanto ci seguono qui a teatro e che ringrazio e ringrazio tutto il pubblico dell'affetto e della stima che ci hanno sempre dimostrato. C'è una sorta di volontà di rinnovamento attraverso le note, le musiche, i suoni, i colori e le scenografie che si manifesteranno nelle opere che noi metteremo in scena in questa nuova stagione del teatro marruccino. Come dicevo la stagione del teatro marruccino che mi onoro di firmare per quanto attiene alla prosa si connota proprio per aver messo al centro l'importanza del testo letterario e quindi quest'anno passeremo da Omero a Dostoieschi ma anche ad autori contemporanei a un testo nuovo di Cristina Comincini quindi ci sarà veramente un programma ampio e variegato e ringrazio la deputazione teatrale della stima e della fiducia che mi hanno concesso il direttore amministrativo Cesare Di Martino e tutto lo staff e vertici di questa meravigliosa struttura che è un fiore all'occhiello della regione Abruzzo. La stagione di prosa al marruccino 2024 inizierà sabato 6 e domenica 7 gennaio con Alessio Boni in Ilia del gioco degli dèi liberamente ispirato a Omero e si concluderà sabato 4 maggio evento speciale il cinema incontra il teatro Rocco Papaleo in divertisman. Il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare. L'anno scorso abbiamo raggiunto ogni tipo di record perché abbiamo superato i 700 abbonamenti quest'anno speriamo, anzi ci contiamo, di ripetere questo successo e sicuramente con questo è dovuto grazie a un cartellone di grande qualità come pochi teatri possono vantare in regione.